Siamo alla cronaca, è stato arrestato a Lisbona, Francesco Pelle, 44 anni, boss dell'Andrangheta. Si tratta di uno degli otto latitanti italiani più pericolosi. Luigi Ferraiolo. La salute lo ha tradito per la seconda volta, ma nonostante viva dal luglio 2006 su una sedia a rotelle, era diventato sempre più potente, fino a essere determinante come pacificatore nel locale della Lombardia, come si chiamano i raggruppamenti di Andrangheta, e a gestire un canale internazionale di droga attraverso il Portogallo. L'interpollo con i carabinieri di Reggio Calabria lo ha arrestato nella clinica Sao Cosè di Lisbona, dove era ricoverato perché positivo al Covid. Francesco Pelle, ciccio Pakistan, nipote del più potente e famigerato Tony Gambazza, il primo capocribine noto dell'Andrangheta, è stato anche il motore della violentissima faida di San Luca, che portò alla strage di Duisburg in Germania, con sei morti davanti alla pizzeria da Bruno. Nell'elenco del Viminale, sui ricercati più pericolosi tra i primi otto, leggendolo dall'alto verso il basso, era il numero due. Contemporaneamente è stato anche arrestato a Malpensa questa mattina, un altro andranghetista, Marc Biart, romano a rispetto del cognome, tradito dal suo amore per la cucina.